Circa una settimana fa, un cittadino di Santa Maria di Castellabate, Danilo Palmieri, guida escursionistica e tra i volontari che si occupa della pulizia dei sentieri, aveva segnalato su Facebook la presenza di un camper bruciato sul Monte Tresino. Il suo messaggio forte e diretto ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione comunale di Castellabate, che ha provveduto in poco tempo alla rimozione della carcassa. Il cittadino ha postato sul suo profilo Facebook il video e le foto, dando modo di assistere all'intervento a tutti coloro che avevano preso a cuore questa causa. Finalmente, ha scritto Palmieri, è arrivata la bellissima notizia che tutti gli amanti del Tresino aspettavano. Il camper bruciato è stato rimosso. Si ringrazia l'amministrazione comunale di Castellabate, nella persona del sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, per aver risolto la problematica quando la collaborazione tra semplici cittadini e amministrazioni funziona. Ecco i risultati. Il territorio non è mio e non è vostro, ma è nostro. Perciò cerchiamo di rispettarlo e proteggerlo, perché ognuno nel suo piccolo può contribuire per la salvaguardia. Grazie a tutti. Dalle parole di Palmieri si avverte il forte legame nei confronti della sua terra, oltre al suo impegno nel proteggere il luogo in cui vive. Tanti messaggi di sostegno e appoggio morale da parte di molti cittadini, i quali hanno condiviso la rimozione della carcassa. Una nota sicuramente positiva che ha messo in evidenza una comunità unita e compatta verso un obiettivo comune, la salvaguardia del proprio territorio. Noi non siamo realmente i padroni della terra, bensì i custodi e da tali abbiamo il dovere di proteggerla e amarla. Il nostro esempio è alla base di ogni azione concreta e futura, la speranza e l'augurio, e che il sentiero naturalistico che da Trentova giunge fino a Tresino possa avere in futuro tutta l'attenzione e il rispetto che merita da parte di ogni singolo cittadino.